Senti, parliamo di Omar Predrini, che fondò Itimoria, un grandissimo artista, è stato tuo compagno per un sacco di tempo. Sette anni. Ha subito un primo intervento al cuore. Quando lo salvai. Cioè? Noi stavamo insieme, lui rimase sveglio per scrivere un articolo, io andai a dormire. Mi sveglia, la mattina lo trovai esattamente come la notte, vestito ancora tanto di scarpe, maglione. E lui mi raccontò che rimanendo sveglio così, gli venne fame, decise di mangiare un po' di bresaola, beve un po' di birra, e iniziò ad avere dei grandi dolori allo stomaco. Quindi pensò immediatamente a una congestione. Congestione, certo. Esattamente. A farmacia gli provarono la pressione ed era perfetta. E gli diedero delle pastiglie, insomma qualcosa da prendere. Torniamo a casa, mangiò un riso in bianco e si mise a dormire, dopo circa un'oretta. Andai là in camera e lo vidi dormire. A quel punto iniziai a svegliarlo. E lui non si voleva svegliare. E a un certo punto aprì gli occhi e mi disse, no, sono stanco, lasciami dormire, lasciami dormire. Gli disse, no, 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 scendi giù dal letto. Lo tirai di forza, insomma, è un uomo di un metro e novanta, non è proprio piccino, eleggiadro. Lo vestì, lo caricai in macchina e corsi immediatamente in ospedale. Lui non voleva. Arrivamo in ospedale e dopo l'ecocardio mi dissero, signora bisogna immediatamente operarlo. Che aveva un aneurisma. Arrivò il medico e mi disse, signora, glielo dico con molta onestà, l'80% muore, il 20% si salva. Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero, ce l'abbiamo fatta, adesso è in rianimazione. Miracolo, gli hai salvato la vita. Questa è la storia.